E' ricoloso dire a una persona che ha un tumore di smettervi di fare la chemia? Chiudete le orecchie, sono demoni, pagati per rompere le scatole a chi fa le cose del bene, non conoscono lo spirito. Senti quanto è che il guru che lei nomina si... Aprite! Aprite! La vita in mano.